Finalmente! A breve potremo giocare tutti al nostro amato Quidditch. Ah no, aspetta, pensavi di poterci giocare su Hogwarts Legacy? Sì, beh, d'altra parte c'hai ragione. C'è la scopa volante, la divisa da Quidditch, c'è persino il fottuto campo da Quidditch, e uno dice, ci sarà anche il Quidditch. E invece no, c'è manmanco come DLC, ve lo pago. Gioco totalmente nuovo e solo multiplayer competitivo. E io ragazzi mi lancio con una previsione, segnatevela. Se sarà a pagamento, morirà dopo un mese e lo metteranno gratis con Battle Pass stagionale, sempre a pagamento. Se invece sarà free to play, avrà microtransazioni predatorie, il Battle Pass, e chiuderà comunque dopo pochissimo. Basta vedere la fine che ha fatto Legacy. Meno del 30% delle persone che lo hanno comprato l'ha pure finito. Perché raga, un gioco non deve essere solo basato su un brand di successo. Deve anche essere, come posso dire, bello.